happy holidays questa è la collezione della essence di natale 2013 questi sono gli ombretti gli ombretti più o meno li ho presi tutti questo è lo 01 come vedete è un fucsia molto carina la texture quasi un peccato usarla e questo è il risultato lo 02 è un ocra questo è il nome la texture più o meno è uguale e questo è il risultato questo è un verdone molto scuro questo è il nome la texture è sempre uguale e questo è il risultato questo è il numero 1 questo è il numero 2 e questo è il numero 3 io li trovo molto molto carini questo più fucsia che un rosso forse ci voleva di più l'ombretto rosso per natale poi gli altri due colori sono prettamente natalizi a me sinceramente non mi dispiacciono però avrei preferito l'ombretto rosso sinceramente natale il colore il rosso e il verde e l'oro babbo natale si veste di si veste di rosso quindi poi anche a natale il 31 ci si veste di quindi avrei preferito per l'ombretto rosso non fossi sperando che la essence per la collezione di natale dell'anno prossimo ci pensi speriamo speriamo